Guardi, le indicazioni che vengono proposte sono indicazioni che mirano, come abbiamo sempre detto, al distanziamento sociale. La misura più importante che oggi noi abbiamo a disposizione è creare in tutte le condizioni possibili una distanza interpersonale che consenta la riduzione della probabilità della trasmissione del virus. In alcune zone dove il virus circola, come dicevo prima, un po' più intensamente a livello locale, occorre un'attenzione particolare perché il numero di persone positive o il numero di persone che manifestano dei sintomi è più elevato e quindi la probabilità di diffusione è più alta e quindi è necessaria una maggiore attenzione, delle misure strutturali che aiutino di più le persone a rispettare questa distanza. Nel resto d'Italia, però, non è che dice esente, bisogna comunque mantenere l'attenzione perché in realtà la presenza o l'inserimento di persone positive può, ovviamente, come negli altri casi, trasmettere l'infezione e quindi nessuno di fatto oggi è immune ma l'idea è proprio di modulare l'intensità delle misure in funzione della circolazione del virus. La mobilità a cui lei si riferisce evidentemente è un elemento di cui tenere, da prendere in considerazione il punto però essenziale è che comunque le misure di distanziamento vanno mantenute non è che se uno si sposta questo tema cambia, ecco, non ci sono, credo che un grande appello che mi sento di fare a tutti è non è che c'è una parte d'Italia oggi che è completamente immune, ci sono delle parti d'Italia dove il virus circola di meno allo stato attuale, ma il fatto che il virus circoli dipende dai nostri comportamenti e quindi se noi continuiamo a comportarci come nulla fosse, che lo facciamo a Milano, che lo facciamo in un'altra città del centro del sud Italia, non è che il virus non circola, circolerà laddove i nostri comportamenti e le condizioni di distanziamento interpersonale aumentano la probabilità di circolazione quindi questo è il motivo per cui è stato proposto dal Comitato Tecnico Scientifico e adottato dal Presidente del Consiglio un provvedimento che mira proprio a rendere consapevole ogni cittadino italiano di quanto sia importante l'adozione di questi strumenti e questo è indifferente da dove viviamo, quindi questo non so se ho risposto alla sua domanda